Il calcio mercato, Rizzo verso Messina, operazione ai dettagli, abbiamo già detto di Marilungo alla Prosesto, attenzione fortissimo il Sud Tirol su Michael De Marchi, si raffredda la pista che avrebbe portato il Pescara ad ingaggiare Samuele Lungo del Vicenza e dunque insomma ci sono ancora delle trattative in corso, Galano potrebbe tornare al Bari ma l'operazione non è affatto semplice, anzi piuttosto complicata perché il Bari ha problemi di lista, lista piena insomma il DS Ciro Polito tra l'altro ex portiere del Pescara stagione 2007, da gennaio a giugno 2007 ha proposto lo scambio con Davide Di Gennaro, regista classe 88 ma in questo ruolo il Pescara è ampiamente coperto, si è parlato anche di Misuraka in uscita dal Pordenone classe 90, 32 anni da compiere, un giocatore importante della squadra friulana gli ultimi sei anni dal 2016-2017 in uscita, ripetiamo, però insomma non ha le caratteristiche di interdizione che servirebbero in un centrocampo a due, sarebbe una forzatura quindi si raffredda anche questa pista. Per quanto riguarda invece le operazioni in entrata che sono state ufficializzate, Derizio Lascano che oggi ha esordito in primavera, tra poco parleremo anche di questa partita sfortunata per i biancazzurri di Gigi Iervese. Ierardi, il difensore centrale, è arrivato lunedì scorso, anzi martedì per essere ancora più precisi, classe 98, è arrivato in prestito secco dalla Vicenza. In uscita Sacco alla Bologna, Radaelli, il portiere che è stato ceduto a titolo definitivo all'Alcione Milano, squadra di Serie D, poi Valdifiori che ha risolto come è noto il rapporto con il club biancazzurro, Sanogo era un prestito, è tornato al Benevento, Marilungo come detto alla Prosesto, Rizzo siamo ai dettagli, sta per firmare con il Messina, Galano è un punto interrogativo, poi Bocic piace la fermana ma si profila per il serbo classe 2000, la pista estera e poi su De Marchi è fortissimo come vi abbiamo detto in apertura il Sud Tirol. Per quanto riguarda invece la squadra sono emerse altre due positività, un membro dello staff tecnico e un calciatore, dunque in totale i calciatori positivi in questo momento sono tre. Per quanto riguarda la Viterbese c'è da dire che il team laziale che occupa all'ultimo gradino della classifica insieme con il Grosseto si è rinforzato in questa sessione di gennaio, sono arrivati infatti l'esperto portiere Fumagalli classe 82 che compirà 40 anni il prossimo 23 marzo, l'esperto difensore centrale Ricci dalla Pistoiese classe 89, semenzato che Auteri ha allenato a Bari lo scorso anno classe 87 ex Pordenone e poi Bianchimano che invece è stato preso a titolo definitivo dal Perugia attaccante classe 1996. La curiosità è il DS della Viterbese e Mariano Fernandez che è stato DS del Matera. Nella stagione 2014-2015 in Serie C il Matera era guidato da Auteri e si classificò al terzo posto al termine della stagione regolare. Il Teramo, le notizie sul Teramo, non si sblocca il Rebus Mungo. Mungo non è convinto della destinazione Viterbese e tra l'altro si è fatto sotto il Sud Tirol per il centrocampista offensivo classe 1993, a situazione naturalmente da monitorare. Ricordiamo che Mungo è in scadenza di contratto, la Viterbese ha offerto un contratto di un anno e mezzo fino al 30 giugno 2023, però insomma Mungo sta puntando i piedi e nelle ultime ore si è fatto sotto proprio il Sud Tirol che vuole prendere anche De Marchi. È arrivato anche Cisco, esterno d'attacco classe 1998 che ha giocato sei mesi nella stagione 2019-2020 nel Pescara, un esterno d'attacco ambidestro, arriva in prestito secco dal Pisa. Attenzione perché l'affare, l'operazione Mungo, non sblocca un'altra operazione in entrata, perché il Teramo ha l'accordo totale con Daniele Sorrentino, altro esterno d'attacco classe 1997 della Reggiana, però deve andare via Mungo, altrimenti non si potrà concretizzare questa operazione e poi tutto fermo per quanto riguarda invece Lombardo alla Vibonese.